Un grande dono per la Chiesa. Con queste parole Papa Francesco ha definito all'udienza generale il pellegrinaggio compiuto nei giorni scorsi in Terra Santa per commemorare il cinquantesimo anniversario dello storico incontro tra Papa Paolo VI e il Patriarca Tenagora. Alle migliaia di persone radunate in Piazza San Pietro il Pontifice ha chiarito che il momento culminante della visita è stato l'incontro con il Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I e ha chiesto perdono personalmente per le divisioni e le ferite causate dalla Chiesa. In quel luogo dove risuonò l'annuncio della risurrezione ha precisato abbiamo avvertito tutta l'amarezza e la sofferenza delle divisioni che ancora esistono tra i discepoli di Cristo. Altro pilastro della visita nella Terra che ha visto la presenza storica di Gesù la pace, dono di Dio e impegno degli uomini. La pace si fa artigianalmente. Non ci sono industrie di pace. Si fa ogni giorno artigianalmente e anche col cuore aperto perché venga il dono di Dio. Infine il pensiero di Papa Francesco è andato alle comunità cristiane esprimendo gratitudine per questi fratelli che sono coraggiosi testimoni di speranza e carità e contribuiscono al bene comune della società. Grazie. 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 Grazie.